Le strade per dare un senso alla tua vita sono molte. La prima cosa da fare è decidere che vuoi dargli un senso. Non solo ricercarlo e non basta trovarlo. Decidere di dare un senso alla tua vita significa impostare la tua vita scegliendo le fondamenta su cui basarla. Ti suggerisco una scala di valori. Alcune regole ben definite, scelte che seguono sempre queste regole. Nel frattempo fare di te una brava persona con quell'animo del bodhisattva di cui tanto parla la filosofia orientale. Basta anche meno perché quello che conta è ciò verso cui tendi e la direzione che ti dai. È così che il come dare un senso alla propria vita diventa perché dare un senso alla propria vita che in fondo che sia come o perché significa vivere il vero significato della vita. Puoi immaginare come nel mio lavoro accada spesso di parlare di temi così profondi, così importanti, salienti, urgenti anche. Se non sai cosa faccio, mi occupo di evoluzione personale, di autoformazione basata sulla valorizzazione dell'essere più autentico, della vera identità, della natura originaria. rispetta te stesso e rispetterai gli altri, ama te stesso ed amerai gli altri, conosci te stesso e conoscerai gli altri. La comunicazione intrapersonale, interpersonale, efficace, attiva e proattiva, la riflessione profonda attraverso la scrittura, la conoscenza di te stesso attraverso la grafologia evolutiva, un coaching online mirato al valore ed al benessere, profondamente calibrato sulla vita individuale. Faccio questo, detto molto in sintesi, perché in realtà è molto di più. Mi prendo cura delle persone, insegnando loro a prendersi cura di se stesse, che vuol dire a riconoscere il proprio valore e da decidere di esserlo se stesse ed esprimerlo nella propria vita. Tutte visioni di straordinaria potenza, condivise e condivisibili, ma, si sa, dalla teoria alla pratica in mezzo c'è la vita. Perciò mi sono molto concentrata su questo passaggio nel mio lavoro, dalla teoria alla pratica. Ed uso la pratica, cioè la vita, oggettivamente e soggettivamente vissuta dai miei carissimi clienti, nonché carissimi allievi, come strumento evolutivo fondamentale, perché le teorie possano manifestarsi, espletarsi, essere strumenti utilissimi per il personalissimo progetto di vita. La grafologia evolutiva è il mezzo di rimente. Ti conosco, so chi sei, ti posso aiutare a comprenderti profondamente, quanto vuoi, posso aiutarti ad essere te stesso. In quale ambito, per quale motivo, andando verso cosa, realizzando cosa, tutto questo è personale. Per questo puoi immaginare quanto i temi urgenti della vita facciano parte del mio lavoro. Anche se non sembra, il senso della vita è un tema urgente, una persona che si chiede perché va a lavorare, un'altra che si chiede perché vive in quella relazione affettiva così infelicemente, un'altra che fa quello che deve fare ma come per inerzia e se guarda in fondo non le pare che ci sia un perché. Un'altra ancora che rincorre successi e approvazioni e più ne trova, meno le sembra di avere trovato qualcosa. Oppure, semplicemente, una persona che vive la sua vita e vorrebbe viverla meglio, al meglio, più felice, più soddisfatta di sé, stare bene, trovare un senso, dare un senso. Questo è un punto di partenza che ritengo davvero imprescindibile. Potremmo parlare del significato della vita in senso generale, della bellezza, della gratitudine, della bontà, di valori ed ideali che arricchiscono il mondo e la vita. Potremmo parlare del significato della vita in senso filosofico e spirituale, da dove provieni e dove andrai e come e perché. Oppure, possiamo concentrarci sul senso che tu vuoi dare alla tua vita. Il senso tra i suoi sinonimi abbiamo direzione, intuizione, percezione, spirito, valore. Possiamo concentrarci sulla direzione che vuoi dare alla tua vita, sullo spirito che vuoi mettere nella tua vita, sul valore che vuoi creare con la tua vita. Questa è la decisione, scegli le fondamenta. Per creare una buona vita devi essere una brava persona, una persona buona. I sinonimi di buono sono centinaia. Devi scegliere di essere una persona bella, benefica, naturale e originale, umana, giusta, grande. Sono tutti sinonimi di buono. Se vuoi sapere perché, chiediti quali possano essere per te e il senso della tua vita e tutto ciò che ne deriva. Motivazioni valide per essere una persona brutta, malefica, innaturale, non autentica, non umana, ingiusta, piccola. Non suona bene. Credo che sarei d'accordo con me. Essere una persona bella, benefica, naturale, originale, umana, giusta, grande. Suona meglio. Per creare una buona vita e dare alla tua vita il senso di ciò in cui credi e di ciò che sei devi scegliere le fondamenta. Più buone, forti e ben commisurate sono le fondamenta, più buone, forti e ben commisurate la tua essenza saranno il senso della tua vita e la tua vita stessa. Intanto posso suggerirti alcuni valori ai quali io mi ispiro sempre, da sempre. Il rispetto, il dialogo, la comprensione, la verità. Ne ho anche un altro che è la base di tutte le basi ma te ne parlerò in altre occasioni. Rispetto per te e per gli altri significa agire sempre nel modo più giusto e corretto. Dialogo significa essere sempre aperto al confronto e all'ascolto, non chiudere, non rifiutare, imparare, crescere. Comprensione significa non solo crescere ma accrescerti, diventare più grande, cercare di comprendere sempre di più. Verità intesa non in senso assoluto ma come, appunto, regola di vita. Vedere le cose per ciò che sono, le persone per ciò che sono, è proprio affrontando la realtà che la migliori e diventi più forte. Questi sono soltanto un piccolissimo esempio. Ognuno di questi valori messo in pratica nella vita di ogni giorno può non solo aiutarti ad essere te stesso ma anche a scoprirti ed a crearti, cioè a decidere chi vuoi essere, proprio partendo dalla comprensione e dal rispetto della tua natura. Quando scegli valori buoni e agisci di conseguenza migliori. Una brava persona non è un eroe, è una persona che fa del suo meglio, che sceglie valori buoni, che crea valore nella propria vita. In realtà, una brava persona è anche un eroe perché scegliere regole di valore su cui fondare la tua vita e seguirle ogni giorno richiede una forza e capacità straordinarie. Se applichi questa semplice visione alla tua vita, ne potrai vedere subito i benefici. Sei un partner collerico, un genitore collerico, un essere umano collerico in ogni tua relazione? Se decidi di scegliere il dialogo e la comprensione, dovrai necessariamente impegnarti per scegliere modi più costruttivi di comunicare e gestire le tue relazioni, criticare e offendere, svilire e accusare. Questo non è dialogo e comprensione. E se ogni volta che, in una discussione, stai per dire brutte cose e brutte parole, ti chiedi che persona vuoi essere e come potresti esprimere ugualmente il tuo pensiero ed il tuo sentire seguendo rispetto, dialogo e comprensione, vedrai che da solo capirai che rabbia, collera, offese, no, non possono essere una giusta via. Questo non significa che un giorno non ti potrà accadere di essere stanco e perdere la pazienza. È la tua decisione, la tua visione, la direzione che ti dice dove stai andando in fondo. Se inizi a percorrere un sentiero e ti fermi durante il tragitto, non significa che non arriverai in cima, alla vetta. Ma se torni indietro o rinunci ad arrivare in cima, questo sì significa che non arriverai in cima alla vetta. Come dare un senso alla tua vita e perché dare un senso alla tua vita sono in fondo domande superfue e sono le domande a creare le risposte. È quando vivi il senso della vita che hai scelto che tu lo comprendi perché quando hai rispetto di te stesso ti ascolti e ti comprendi sei vero a quel punto. Tutto quello che puoi creare intorno a te non ha limiti perché solo dove ci sono rispetto e dialogo verità e comprensione c'è amore e solo dove c'è amore c'è luce e dove c'è luce c'è vita energia che tu sei e porti nel mondo. Alimenta la tua fiamma ed accresci la tua luce vivere la vita realizzando la tua migliore umanità questo è il senso più profondo. Se ti piacciono questi argomenti non solo da ascoltare ma anche da mettere in pratica nella tua vita da rendere concreti posso aiutarti a farlo. annarosapacini.com pagina contatti trovi tutti i miei ricapiti scrivimi o telefonami e troveremo sicuramente il modo perché tu possa portare sempre più luce nella tua vita. Intanto anche io cerco di dare un contributo con il mio podcast puoi iscriverti gratuitamente a comunicare per essere dalla pagina podcast del mio blog o dalla tua app del cuore dove ascolti musica e radio e così per i social mi trovi su tutti i principali puoi scegliere il tuo preferito iscriviti al mio canale video su youtube visita spesso il mio blog così non mancheranno occasioni per riflettere su tutto ciò che può aiutarti a portare valore nella tua vita anche le piccole cose possono aiutare come gli aforismi o la musica lascia un commento inviami un messaggio se vuoi saprò che ci sei quattro aforismi sul senso della vita il primo di Pablo Picasso il senso della vita è quello di trovare il vostro dono lo scopo della vita è quello di regalarlo il secondo di William Ward l'avventura della vita è imparare lo scopo della vita è crescere la natura della vita è cambiare la sfida della vita è superare l'essenza della vita è curare la grande occasione della vita è servire il segreto della vita è osare il sale della vita è fare amicizia la bellezza della vita è dare la gioia di vivere è amare il terzo di Kant agisci in modo da considerare l'umanità sia nella tua persona sia nella persona di ogni altro sempre anche come scopo e mai come semplice mezzo infine Antoine de Saint-Exupéry ciò che dà un senso alla vita lo dà anche alla morte il brano si intitola Moment of Inspiration è vero che l'ispirazione è qualcosa che arriva ma posso dirti che se la cerchi è più facile che la trovi perciò non aspettare soltanto che arrivi traccia la strada che possa ispirarti grazie per essere stato con me ti aspetto alla prossima puntata ciao ciao a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.